Uno degli obiettivi su cui potremo veramente vantare il nostro contributo importante è stato quello sull'infermiera di famiglia e comunità che questa comunità, soprattutto quella retina, la provincia di Rizzo, ne è protagonista a livello nazionale ha visto come l'assistenza sia spostata dall'ospedale al territorio quindi tutto il territorio provinciale e soprattutto quello comunale viene garantito dagli infermieri di famiglia e comunità che sono 116 su tutto il nostro territorio provinciale che vanno a casa delle persone per assisterle proprio nel momento di bisogno Giovanni Grasso traccia un bilancio di questi anni alla guida dell'OPI, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo e della Toscana tanti gli obiettivi raggiunti ma anche quelli ancora da raggiungere come ad esempio la prescrizione infermieristica Arezzo potrebbe essere la prima in Italia Di queste ultime ore l'assunzione di 33 infermieri che arriveranno all'ospedale San Donato di Arezzo ma le necessità sono decisamente più alte, rimarca il presidente di OPI Sicuramente è un dato positivo perché 33 infermieri entreranno a far parte della squadra dell'emergenza e urgenza è chiaro che è un solo segnale che però a noi serve veramente una quantità tale di infermieri che possa garantire un adeguato standard di personale all'interno di tutti i setting perché l'area dell'emergenza e urgenza è uno dei tanti ma le carenze sono croniche in tutti gli altri reparti quindi è necessario e soprattutto l'Ordine Professionale monitorerà anche attraverso un colloquio regionale che faremo con l'assessore Bezzini nei prossimi giorni per cercare di ovviare a quelle che sono le carenze attraverso l'ausilio della graduatoria attualmente attiva di tanti doni che hanno superato il concorso quindi da parte nostra sarà un puntuale e attento monitoraggio di quelli che sono i nuovi ingressi all'interno del sistema sanitario Un certo senso ha già risposto però se progetti come ad esempio quello dell'infermiere di misericordia attecchiscono in maniera così importante nella popolazione vuol dire che si intercetta un bisogno al quale a oggi non c'è una risposta dal punto di vista della sanità pubblica Diciamo che l'infermiere di misericordia è un servizio infermeristico che viene garantito la misericordia come viene garantito anche a livello privato da tanti libri professionisti è chiaro che attualmente il servizio di misericordia va non solo ad affiancarsi ad un sistema già attivo e funzionante come quello dell'infermiere di famiglia e comunità perché viene preso in carico il paziente diciamo che è un complementare ma è necessario però mantenere sempre alta l'attenzione perché chiaramente avere poco personale all'interno dei vari setting sicuramente porterà ad avere dei bisogni di assistenza e delle necessità di questi cittadini che dovranno essere in qualche modo garantiti e noi come infermieri soprattutto come ordine professionale porteremo avanti questa battaglia cercando di tutelare i nostri cittadini grazie